Da qualche mese, presso tutte le isole ecologiche distribuite nell'agro di Martina Franca, è avvenuta l'introduzione dei nuovi bidoni informatizzati per la raccolta dei rifiuti, che hanno sostituito i cassonetti che si aprivano manualmente. Per aiutare i cittadini che ancora oggi incontrano qualche difficoltà o dubbi sul come e quando conferire le varie categorie di rifiuto, il comune di Martina Franca e l'azienda Montego forniscono questo video informativo per rendere ancora più chiara la modalità di utilizzo dei nuovi bidoni informatizzati. Cominciamo capendo esattamente qual è il procedimento necessario per aprire la botola di un bidone per conferirne all'interno l'apposito rifiuto. Prima di avvicinare questa tessera al display, bisogna premere questo pulsante rosso e solo dopo aver ascoltato il segnale acustico avvicinare la tessera. La tessera è stata letta, si può aprire lo sportello. Cosa può essere conferito nel raccoglitore della plastica? Non tutto ciò che può sembrare in plastica va conferito in questa frazione merceologica. Ad essere destinati al riciclo infatti sono soltanto gli imballaggi, ossia tutto ciò che viene creato per proteggere o per contenere un determinato prodotto. Questo va ad escludere senz'altro tutti quei recipienti in plastica dura, come secchi, bacinelle, che quindi non vanno conferiti nella plastica. La stessa cosa vale anche per lo spazzolino da denti o per i contenitori dei cosmetici che vanno conferiti nella frazione residua. Quali sono i consigli per agevolare il conferimento della plastica nei nuovi bidoni informatizzati? Noi consigliamo sempre di appiattire tutto ciò che può essere conferito nella plastica ovviamente dopo averlo debitamente svuotato del contenuto. Volendo prendere come esempio le bottiglie di plastica, le bottiglie non vanno accartocciate per ridurne il volume e l'altezza, bensì appiattite, in modo tale da agevolare proprio le operazioni di stoccaggio. Un consiglio che do sempre per agevolare le operazioni di conferimento all'interno dei bidoni informatizzati è quello di utilizzare come parametro il mastello che distribuiamo al front office perché l'ampiezza di quel mastello è proprio pari a quella della botola che andrete a utilizzare per conferire i vostri rifiuti. Quali sono le modalità di conferimento della carta? Escludiamo la carta sporca di alimenti o di qualsivoglia altra sostanza quindi fazonettini sporchi o unti non vanno conferiti nella carta non va conferito nella carta anche la carta chimica e con questo escludiamo tutti gli scontrini così come anche la carta oliata ossia quella carta che serve per proteggere o contenere gli affettati tanto per intenderci quindi nella carta soltanto carta e cartone ovviamente debitamente ripiegato per agevolarne le operazioni di conferimento. Quali sono le indicazioni da osservare per il secco residuo? Il secco residuo rappresenta la reale novità di questi bidoni informatizzati perché i cittadini dell'agro prima erano a conoscenza dell'esistenza di una parentesi di orario in cui vi era lo stazionamento dell'operatore nei pressi di ogni punto di conferimento nei pressi di ogni isola ecologica in quella parentesi di tempo loro potevano conferire il loro secco residuo con l'introduzione dei bidoni informatizzati sono stati introdotti all'interno di ogni punto di conferimento in modo permanente i bidoni per il conferimento di questa frazione ovviamente devono essere osservate determinate giornate in cui l'utente può recarsi presso il proprio punto di conferimento di competenza e conferire questa frazione H24 queste giornate sono due nella fascia invernale e sono ben quattro nella fascia estiva è sufficiente leggere la locandina apposta sul singolo bidone di ogni punto di conferimento per capire quali sono questi giorni Riassumendo, quali sono le principali accortezze da seguire per agevolare il conferimento nei nuovi bidoni? Allora io consiglio e suggerisco sempre di ridurre il volume dei rifiuti questo non solo per agevolare ovviamente le operazioni di conferimento ma anche in vista di un'agevolazione proprio delle operazioni di stoccaggio e di riciclo come dicevo prima in secondo luogo si deve sempre considerare che qualora si avessero quantità diciamo notevoli di plastico o di carta o qualora si dovesse conferire un rifiuto diciamo abbastanza grande ci si può sempre recare nei due punti di conferimento nei due centri comunali di raccolta che insistono sul territorio in secondo luogo nel caso in cui si avesse difficoltà ad aprire la botola bisogna sempre valutare se la frazione da conferire il secco che sia proprio quella la giornata in cui il cassonetto deve aprirsi e in secondo luogo se invece il display segnala che il cassonetto è pieno ci si può semplicemente recare al cassonetto accanto per completare l'operazione di conferimento resta sempre fermo il fatto di ascoltare il segnale acustico e soltanto dopo aver udito questo segnale avvicinare la tessera e aprire la botola altrimenti la botola non si aprirà ovviamente Dove si trovano i centri comunali di raccolta e cosa si può conferire? A Martina vi sono due centri comunali di raccolta uno ad Ortolini e uno nella zona industriale Questi due centri comunali di raccolta sono aperti in orari differenti proprio per consentire l'utenza di poter soddisfare insomma le diverse esigenze che ognuno di noi ha nel conferire ovviamente i rifiuti All'interno di questi centri di raccolta ci sono i nostri operatori che non solo vanno a monitorare le operazioni di conferimento ma vanno a coaudivare proprio il lavoro dell'utente per cercare di aiutarlo a conferire nel modo più corretto possibile Cosa si può conferire in questi due centri di raccolta? Non soltanto carta, cartone, plastica, metalli, vetro ma anche vestiario usato, lampadine, stampanti, toner, elettrodomestici, ingombranti olio vegetale esausto e tanti altri rifiuti che sono minuziosamente elencati nei libricini esplicativi che noi quotidianamente distribuiamo presso il nostro front office Grazie a tutti